E' giunto il momento di alzare a questo punto non tanto i toni verbali ma i toni della discussione, nel senso che non è più accettabile una situazione che complessivamente, perché c'è una responsabilità diffusa, dimostra una sottovalutazione gravissima del problema ricostruzione all'interno del nostro catresismico. Teramo nello specifico vive una situazione ancora più drammatica con numeri che sono fuori controllo, nel senso che sono altissimi e non sono forse neppure conosciuti da chi ci amministra e ci governa in questo momento. Ecco ricordiamoli i numeri. Sì, parliamo ancora di 4.000 sfollati, abbiamo circa 400 pratiche B, tantissimi nuclei, oltre 1.000 nuclei che sono ancora assistiti dal CAS che si trovano negli alberghi della costa e non solo. Insomma, una situazione per teramo città drammatica ma che riguarda tutto il catere sismico. L'ufficio speciale per ricostruzione si trova ancora in una situazione che denota una mancanza di personale inaccettabile ed è inaccettabile, io l'ho detto all'interno del comitato istituzionale, che si venga a proporre di chiedere ai comuni di colmare magari attraverso forme come il comando, il distacco, le lacune dell'USR. Noi dobbiamo chiedere un potenziamento del personale al governo, non mi sembra che le prime risposte che a livello parlamentare sono state adottate e messe in atto nell'ambito del Decreto Genova, negli emendamenti del Decreto Genova, siano sufficienti. Speriamo che in sede di conversione ci sia una maggiore spinta, noi come sindaci faremo il nostro, anche all'interno del Lanci, chiederemo appunto un'attenzione particolare alla nostra realtà, alle nostre realtà che vivono ancora una situazione di emergenza e ad oggi non si sa ancora se questo stato di emergenza verrà prorogato e forse il nuovo commissario sia il caso che venga qui a conoscere realmente numeri e situazioni perché mi sembra, ripeto, che non ci sia una consapevolezza del problema.